Sarà una giornata da consegnare agli annali, quella di domani per la Roma-Sulmona. Le vetture dell'Orient Express, il mitico treno degli anni 20, partiranno infatti da Roma, alla volta di Sulmona e Roccaraso, percorrendo la Ferrovia dei Parchi. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra Arsenale, S.P.A. e Trenitalia. Il treno, composto da tre carrozze ristorante e tre carrozze Pullman, di cui un salumbar, partirà dalla stazione Roma Termini alle 7.45 dal binario 22, con in testa la locomotiva. Il convoglio toccherà le stazioni di Guidonia, Montecelio e Sant'Angelo, Tagliacozzo, per arrivare a Sulmona alle 10.45. Da Sulmona proseguirà verso Roccaraso per un viaggio promozionale, dedicato in una inedita doppia trazione, con arrivo previsto alle 13.10. L'Orient Express ripartirà poi alla volta di Roma Termini alle 16.08 da Roccaraso, per giungere a destinazione alle 21, sostanto nelle stazioni di Collarmele e Roviano. Con l'occasione i turisti appassionati potranno fotografare il transito e la sosta nelle varie stazioni di uno dei treni più famosi e eleganti al mondo per la prima volta nella storia d'Abruzzo.